Quattro vittorie su quattro per Forlì all'Uni Aura Arena davanti al proprio pubblico. L'ultima vittima è stata allora Sira Venna di Cociantimo Martino che si è dovuta arrendere 77-73. Una partita che secondo me una volta di più ha rivelato quella che deve essere la nostra identità. E cioè noi dobbiamo mantenere questa forma mentale di grande umiltà perché solo così veramente tutti i singoli elementi si fondono in una squadra. E' solo se giochiamo in cinque e l'abbiamo fatto veramente vedere per larghi tratti questa sera, giocando secondo me tecnicamente molto bene il primo tempo, soprattutto in difesa ma anche in attacco e conservando una certa lucidità anche nel secondo tempo. Sono molto dispiaciuto perché consideravo questa partita un po' decisiva dal punto di vista di testare la nostra crescita soprattutto sulla gestione della gara. Ma purtroppo devo dire che andiamo via da qui con ancora molte incertezze perché mi è già capitato nelle partite precedenti ma a volte ho la sensazione di allenare più squadre all'interno della stessa partita.